Dalla lettera di San Polo Apostolo ai Galati Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo, ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio, o cerco di piacere agli uomini. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi. Immutabili nei secoli, per sempre. Da eseguire con verità e rettitudine. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Mandò a liberare il suo popolo. Stabili la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome. La lode del Signore rimane per sempre. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose Amirai il Signore tuo Dio Con tutto il tuo cuore Con tutta la tua anima Con tutta la tua forza E con tutta la tua mente E il tuo prossimo Come te stesso Gli disse Hai risposto bene Fa questo E vivrai Ma quello Volendo giustificarsi Disse Gesù E chi è mio prossimo? Gesù riprese Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico E cadde nelle mani dei briganti Che gli portarono via tutto Lo percossero a sangue E se ne andarono Lasciandolo mezzo morto Per caso Un sacerdote scendeva per quella medesima strada E quando lo vide Passò oltre Anche un levita Giunto in quel luogo Vide E passò oltre Invece un samaritano Che era in viaggio Passandogli accanto Vide E ne ebbe compassione Gli si fece vicino Gli fasciò le ferite Versandovi olio e vino Poi Lo caricò sulla sua cavalcatura Lo portò in un albergo E si prese cura di lui Il giorno seguente Tirò fuori due denari E li diede all'albergatore Dicendo Abbi cura di lui Ciò che spenderai in più Te lo pagherò al mio ritorno Chi di questi tre Ti sembra sia stato prossimo Di colui che è caduto Nelle mani dei briganti Quello rispose Chi ha avuto compassione di lui Gesù gli disse Va E anche tu fa così 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 Grazie a tutti